buona giornata amici oggi è 4 novembre ed è giovedì una giornata dedicata soprattutto alle forze armate poi vedremo come questo anniversario verrà ricordato sulle pagine dei giornali come sempre procederemo alla lettura questa mattina alla sintesi degli articoli pubblicati dal Corriere Adriatico e dal resto del Carlino ma prima vediamo qual è il santo del giorno e poi il meteo oggi è San Carlo Borromeo quindi auguri a tutti coloro che si chiamano Carlo San Carlo Borromeo cardinale fu tra i massimi riformatori della chiesa cattolica insieme a Sant'Ignazio e a San Filippo Neri fu decisivo nel concilio di Trento e fu il fondatore dei seminari scusate la voce questa mattina ma la stagione a parte il covid insomma fa i suoi effetti e vediamo ora il meteo cambiamo pagina e vediamo che la situazione si sta evolvendo rispetto a quella di ieri ci sono state piogge residue durante la nottata ma dal mattino ci saranno ampie schiarite giornata nel complesso sarà solleggiata temperature le temperature oscilleranno tra i 17 e i 19 gradi 20 sulle coste medio da sud ovest mentre sull'interno saranno ugualmente tesi da questa provenienza le temperature comunque sono in calo ed ora diamo un'occhiata ai giornali a partire dalle prime pagine dei quotidiani sul resto del carlino vediamo che il titolo di apertura è dedicata ad un appello riaprite il punto tamponi pesano tante le richieste per riattivare il drive test in via dei cacciatori e poi a proposito del vaccino vediamo il titolo di testa muore a 48 anni non era vaccinato abitava a valle foglia da agosto era ricoverato per covid in rianimazione ad ancora e poi ancora fatto esplodere il masso pendente che lanciava la flaminia a cantiano ancora green pass anche per gli studenti punto in interrogativo i presidi sono d'accordo con rossini maltrattamenti alla moglie un finanziere alla sbarra per quanto riguarda la cronaca e per quanto riguarda lo sport vediamo invece per la vl banchi a scariolo il duello otto anni dopo la vis che sfida al benelli arriva la capolista domenica infatti ci sarà il match con la reggiana sul corriere adriatico i titoli di apertura riguardano sempre la sanità fate presto con il delta plus sarebbe questa una nuova variante del covid torrette scopre due casi della nuova variante in regione ora bisogna sbrigarsi con la terza dose del vaccino c'è anche una dichiarazione del virologo menzo marche nord porta mobilità attiva e vengono pubblicati i dati della relazione della dirigente capalbo pesaro allarme amianto vicino all'asilo iniziata la bonifica ancora guardia medica pesaro trovate alcuni dottori per il turno di notte e vedremo quanti poi nelle pagine interne mentre a fano per quanto riguarda l'incendio che si è verificato nella chiesetta che ospitava il magazzino degli abiti usati c'è un appello perché si trovi un nuovo magazzino ancora cronaca estorsione dopo la droga mamma ci ammazzano e l'appello e il grido di dolore di un ragazzo che poi è stato invischiato in un losco giro e vediamo dunque le pagine interne a partire dal primo piano di pesaro case bruciate sito il migliore sito migliore per cosa per l'ospedale ovviamente la regione adesso non ceda è un appello di un gruppo di residenti che che dicono che è migliore il sito di case bruciate rispetto a quello di muraglia è una polemica ormai infinita il comitato dei residenti del quartiere ribadisce l'opposizione alla scelta di muraglia questa decisione sarebbe una forzatura luogo inadatto con rischi idrogeologici così come avrebbe dimostrato anche una relazione fatta alcuni anni fa dalla stessa regione guardia medica ora recuperati due dottori per la notte forse un terzo per montecchio con validità immediata ha affermato il dottor betonica che fa parte della fie mmg territoriale sono stati recuperati due medici per turni operativi per tutto il mese in orario diurno e notturno e anche festivo copriranno interamente la postazione di viale della vittoria dividendosi così il carico delle chiamate e degli accessi diretti poi forse c'è anche un terzo medico che si renderà disponibile per montecchio comunque rimane sempre rimane sempre in evasa così la situazione della carenza dei medici soprattutto quelli di base e dei pediatri come ho detto anche in precedenti occasioni la situazione si fa veramente emergente l'aumento del prezzo del pane del pane è già scattato non copriamo lo stesso i costi cresciuti affermano i panificatori i fornai delle zone interne hanno ritoccato già il lestino del 10 per cento e anche in qualche caso del 20 per il settore il lockdown è stata una vera e propria mazzata e il corriere adriatico questa mattina pubblica ancora una tabella con tutti i prezzi e dove si evidenziano gli aumenti e per quanto riguarda le culture agricole vediamo che appare un altro articolo sulla sulla fauna dannosa ovvero sui cinghiali che rovinerebbero soprattutto il periodo della semina semina di orzo grano tenero grano duro favino pisello tutte le semine autunnali rischiano di essere vanificate dalle incorsioni quotidiane dei cinghiali che sono animali molto molto famelici e quando arrivano in un campo raziano tutto con gravi danni per chi ha speso soldi per la semina sopra luogo dei tecnici del ministero via san decenzio riapre a metà mese tribunale è stato messo in sicurezza l'annuncio è dell'assessore belloni prima i lavori di emergenza ha detto l'amministratore poi la manutenzione mentre a villa san martino scoppia l'allarme a mianto è iniziata la bonifica vicino all'asilo erano state raccolte in passato 500 firme il comitato ona afferma il materiale incapsulato deve però essere rimosso ovviamente non si può smantellarlo e lasciarlo sul posto se nel passato i lavoratori di produzione sono stati soggetti più a rischio quelli insomma che lavorano in ambienti pieni di amianto oggi è l'intera popolazione ad essere esposta a causa della vetustà dei manufatti ediri che negli anni possono perdere compattezza e quindi liberale nell'aria quelle micidiali cellule che poi provocano gravi forme di tumore come il micidiale mesotelioma ancora sulla pagina di pesaro sulla cronaca vediamo un articolo che riguarda una vicenda drammatica asci si è trovato nel bursone frigo da spaccio a incubo da 12 mila euro è una vicenda di droga prestiti minacce di morte un ragazzo che è rimasto implicato nel giro della droga vittima di estrusione di una persona che gli aveva anche prestato dei soldi quest'ultimo ha patteggiato ieri 12 mesi e 12 mesi il suo pusher due anni insomma una vicenda che vi invito a leggere sul quotidiano oggi in quanto è molto complicata sperone di rocce fatto brillare in dieci minuti sulla flaminia una spettacolare esplosione in pochi secondi è caduto questo è sbriciolato proprio questo sperone che poteva costituire un pericolo per coloro che transitavano sulla via ancora sulla valle foglia case rurali nell'area del biodigestore come distruggere territorio e storia come l'ubicazione dell'ospedale nuovo a pesaro desta polemiche desta contrapposizioni anche il biodigestore fa la stessa cosa ora la l'ubicazione di questo impianto che dovrebbe trattare i rifiuti dell'organico non viene accettata alcuni lo vogliono altri non lo vogliono e oggi sul giornale c'è un attacco del centrodestra alla maggioranza il provvedimento è in ritardo è mostruoso solo ora diventa importante oggi il 40 per cento delle case attorno al sito dove è stato ubicato il digestore è parzialmente crollato e gravemente danneggiato il 40 per cento di quegli edifici a urbino gambini basta ordinanze servono l'esercito e il daspa è una dichiarazione di cecchini e marcucci pinoli e della conf commercio della conf turismo che scrivono a tutto il consiglio comunale mettiamo un esperto riteniamo indispensabile hanno dichiarato individuare rapidamente un professionista o un pool di esperti in gestione dei centri storici che analizzi la particolare situazione del centro storico di urbino individuando progetti e azioni concrete di carattere strutturale sia sotto il profilo dell'ordine pubblico ricordiamo i famosi giovedì di urbino sia anche per diversificare l'offerta dei servizi per il tempo libero il divertimento e la cultura insomma tranquillità ordine e iniziative è quello che serve ad urbino per rilanciare l'economia e veniamo alla pagina di fano il sindaco sprona il vice fanesi palas avanti con la variante il palas nuovo palas di fano fosse rimasto al palo in questi ultimi tempi dopo che la giunta nel momento delle elezioni l'aveva inserito nel suo programma elettorale e poi sono intervenute tante altre necessità ora questa necessità di avere un nuovo palazzetto dello sport anche perché ci sono società come quella della ginnastica che ha raggiunto vette di carattere internazionale e entra ancora risale ancora alla emergenza occorre innanzitutto approvare una variante urbanistica ed è su questo che ieri si è soffermato il sindaco seri la variante urbanistica imposta dalla previsione di costruzione dell'impianto a chiaruccia luogo prescelto con un atto di indirizzo ormai quasi due anni fa dal consiglio comunale ebbene dopo aver lungamente sostato questo atto davanti al genio civile dovrebbe trovare la sua risoluzione per almeno andare avanti sul piano del percorso burocratico se non su quello del progetto esecutivo il milite ignoto ebbene abbiamo detto che oggi il 4 novembre giornata dedicata alle forze armate ma cade anche il centenario della tumulazione della salma del milite ignoto nell'altare della patria a Roma e Fano vuole ricordare ma ci sono anche altre località poi che lo fanno questo avvenimento ci saranno delle iniziative si partirà questa mattina la darsena borghese con l'alza bandiera che si fermerà a metà pennone cioè a mezzasta seguirà poi la deposizione di una corona di alloro al monumento dei caduti di tutte le guerre in viale buozi e oggi pomeriggio dalle ore 17 nella sala verdi del teatro della fortuna ci sarà un incontro con la partecipazione di alcuni relatori anche delle forze armate dei marinai d'italia degli studenti del polo 3 che leggeranno delle poesie e poi proietteranno un docufilm un filmato che loro stessi hanno realizzato la cerimonia poi terminerà con la consegna della cittadinanza onoraria di Fano da parte del sindaco seri all'ideale del milite ignoto ancora sulla pagina di Fano sostenetici ora per ripartire è l'appello del centro rivestiamo quello della chiesetta di centinerola che è andata a fuoco l'altro giorno l'ex chiesetta è inagibile per il rogo caritas e l'associazione contatto si rivolgono imprenditori e cittadini per avere la disponibilità di un magazzino accusato di aver truffato l'ospite senza fissa dimora l'avrebbe convinto a investire 5 mila euro su un giro di telefonini ebbene questa vicenda fa riferimento a una persona che è finita sul banco degli imputati nell'estate del 2020 avrebbe cercato di carpire la fiducia di un uomo di un anziano di 74 anni senza fissa dimora lo avrebbe ospitato dentro casa facendogli pagare soltanto le utenze poi piano piano lo avrebbe convinto a investire sulla comprovendita di telefoni cellulari in poco tempo gli avrebbe insomma prelevato spillato diciamo meglio 5 mila euro finché l'uomo ha capito di essere stato truffato a sport o denuncia e appunto ora il questo truffatore diciamo così questo questo truffatore deve risponderne al tribunale a Fano ancora c'è polemica per quanto riguarda la mancata richiesta di fondi per certi progetti soprattutto per quanto riguarda la sicurezza stradale oggi intervengono Loretta Manocchi che è coordinatore di Fratelli d'Italia e il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle che rimprovano la giunta di aver perso questa occasione erano finanziamenti che potevano essere disponibili ma Fano in un certo caso non ha presentato progetti si tratta appunto di questo progetto della regione mentre per il Pinqua non è entrato nella graduatoria nella prima graduatoria dei fondi disponibili l'incarico scadeva hanno seguito la nostra via l'ex assessore Gloria May soddisfatta per la conferma di Confcommercio ora però siamo scesi a Fossombrone si tratta della gestione delle istituzioni culturali da parte della Confcommercio un incarico che è stato rinnovato proprio al termine della gestione della passata giunta e così la nuova giunta si è trovata a sostenere questo nuovo contratto ebbene l'ex assessore Gloria May è soddisfatta per la conferma di questo incarico prima era ex assessore prima era assessore diciamo meglio ora consigliere comunale nella Val Cesano Marotta dal nascondiglio trappola la redenzione del pusher un chilo di droga nell'auto della vicina l'avvocato appena paneggiata ha capito l'errore questa è la storia di un giovane da poco maggiorenne che era stato arrestato dai carabinieri della stazione di Marotta per il possesso di un chilogrammo di Marijuana e veniamo ora a Senigallia abbiamo ancora l'incubo della alluvione un incubo che ormai viene cancellato con un colpo di spugna la prescrizione cancella i primi reati via abuso e omissioni dati d'ufficio l'ira di Ciccetti Franco Ciccetti che il 3 maggio ha perso il padre a Borgo Picchia non credo più nella giustizia ha detto so come finirà ed ora vediamo il resto del Carlino il resto del Carlino abbiamo già visto la prima pagina vediamo ora le notizie all'interno vediamo un articolo che riguarda il lavoro in provincia c'è un esercito di pensionate ma la torta previdenziale va in tasca ai maschi c'è quindi ancora un divario un grosso divario tra gli uomini e le donne gli uomini si spartiscono più della metà delle risorse eppure sono circa 4.000 in meno e tra gli assegni mensili in media c'è una differenza di 598 euro c'è una analisi sul giornale questa mattina di Loredana Longin che fa parte della SPI della CGL per le donne il problema inizia quando si comincia a lavorare ha dichiarato cacciatori di manager? No, di operai specializzati è quello che ricercano le ditte figure sempre più richieste quelle degli operai specializzati che ad esempio nel mobile ora mancano Giuseppe Lograno della CGL fa il punto c'è posto per centinaia di persone ci sono aziende che stanno prenotando i giovani che escono da istituti come il Benelli quelli dell'ultimo anno sono stati già contattati e quindi c'è un sbocco veramente importante nel mondo del lavoro ed ora vediamo le iniziative per il 4 novembre si rievoca una vicenda storica drammatica sul resto del Carlino quella pistola austriaca puntata alla tempia era la vittima mio nonno Elmo che scampò alla morte Francesco Nicolini racconta l'epopea del parente il soldato lo voleva uccidere dopo aver scoperto che tentava di fuggire ma alla fine ha rinunciato ebbene tanti tanti racconti questi degli episodi del prima guerra mondiale una guerra che è sfociata poi nella vittoria come sappiamo ma quanti sacrifici ha comportato 12 lapidi per ricordare i ragazzi eroi sono i diciottenni o poco più che perirono nel conflitto del 15-18 oggi la cerimonia a Pesaro in cui i marmi verranno spostati a Palazzo Almerici ci sono celebrazioni anche a Vallafoglia con le associazioni dei combattenti un caso in tribunale cimice nell'auto della moglie per controllarla l'accusa è stata portata a un ufficiale della Guardia di Finanza che è stato sotto processo per maltrattamenti il PM ha chiesto la condanna a un anno e otto mesi e poi vediamo anche ancora qui l'episodio della droga mamma in guai al figlio segnala la borsa piena di Ascis era dell'amico ma i carabinieri indagano e incastrano anche lui veniamo alla pagina di Fano vediamo la foto di Michele Altomeni che è presidente della cooperativa sociale Contatto che gestiva il centro di abiti usati di Centinarola il quale lancia un appello e dice agli imprenditori cerchiamo un magazzino per ridistribuire abiti e coperte l'inverno è incipiente, è vicino e quindi questo è un apparato un atto di solidarietà che non può essere sospeso ancora sulla pagina di Fano lavori alla darsena borghese tutto fermo scusate a causa della morte del titolare della ditta non si sa quando il cantiere ripartirà intanto oggi vi si svolgerà la cerimonia del milite ignoto una dichiarazione del sindaco regalano soldi e loro li snobbano l'ira del Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia contro il Comune e abbiamo la foto del sindaco Massimo Seri che dovrà dare ragione per quanto riguarda l'assenza del Comune di Fano sulla richiesta di questi fondi disponibili e poi ancora un fatto di cronaca rievocato dal resto del Carlino una ragazza è stata palpeggiata al supermarket i genitori le scuse una presa in giro ecco perché il colpevole ha scritto a nostra figlia dicono i genitori un anno dopo solo per ottenere il patteggiamento non è stato per niente un raptus secondo la tesi appunto dei genitori l'uomo lo avrebbe fatto di proposito e si sarebbe vantato subito dopo dicendole e adesso come la mettiamo? come per dire adesso tu non puoi fare niente io l'ho fatto ma andrò indenne di questa storia e vedremo se lo sarà Maxi Palestra fischio d'inizio per l'anno nuovo e siamo ora a San Lorenzo in campo procedono i lavori per il nuovo impianto il sindaco dice servirà anche come luogo di emergenza in caso di calamità in questo caso c'è un investimento di 1.300.000 euro per gran parte provenienti da fondi del ministero e il resto del bilancio comunale insomma una parte dal ministero una parte dal comune ancora Urbino incastrato sotto il letto salvato curioso questo articolo che riguarda un giovane di 24 anni che alzando un'anta del letto è rimasto incastrato sotto la rete con un braccio ed è stato necessario liberarlo con l'intervento delle squadre di emergenza e poi ancora una bellissima immagine del nostro intoterra uno degli scorci più affascinanti di Monte Nerone una cascata tra le rocce con escursioni ecoturisti alla conquista delle montagne fenomeno in continuo aumento la guida escursionistica della regione Marche Gianluca Dormicchi lancia il super trek e abbiamo anche qualche minuto per dare un'occhiata allo sport sul resto del carino vediamo che la Vis ha iniziato la corsa al biglietto in 600 da Reggio Amadori che è responsabile del marketing dichiara la squadra ha bisogno dei suoi tifosi oggi l'ultimo giorno per gli abbonati che vogliono confermare il posto ci saranno anche sconti nei ristoranti e in pizzerie per gli abbonati e per i tesserati coupon a un euro diamo un'occhiata anche alla situazione del Fano Calcio Fano basta poco per ritrovare fiducia Abel Gigli il somalo difensore centrale dice fino ad ora ha girato tutto storto eppure questa squadra ha potenzialità è un risultato positivo potrebbe farci salvare per quanto riguarda invece la VL vediamo che Banchi ritrova Scariolo dopo otto anni i due big della panchina non si incontrano più dai play-off del 2013 in cui il Siena eliminò Milano ieri le V nere K.O anche in Euro Cup a settembre i due club si erano affrontati in amichevole vinse il Bologna 92 ad 83 e vediamo anche lo sport sul Corriere Adriatico vediamo che cosa ci dice il Corriere sulla Visse mi ispiro a Bonucci e cresco con la Visse con su mano under prezioso il gruppo è la forza della nostra squadra dichiarato contro la Reggiana daremo sempre tutto come abbiamo fatto finora una partita veramente impegnativa quella cui fa riferimento Francesco Cusumano che restituisce seppur in parte un percorso che nasce dalla sua Palermo insomma un percorso ideale di commenti vediamo anche la pagina del Fano il Fano si tuffa sul mercato per rinforzare il suo team la società sta cercando di correre ai ripari dopo la disastrosa prima parte del campionato cominciano a circolare alcuni nomi importanti per la categoria non bisogna sbagliare più e abbiamo anche una foto oggi del presidente del Fano Mario Alessandro Russo insomma che dà una svegliata ai suoi e questa è l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani le altre notizie della giornata questa sera sulle TG di Fano TV alle 20 e 30 ancora buona giornata grazie a tutti poi ci Grazie a tutti